è giovedì 18 marzo guru on air per voi per un'altra puntata del nostro bet italia web daily show oggi è il giorno della merch madness di college basket inizia il torneo ncaa e dopo vi do una free pick anche qui sul podcast ne ho già preparata una voglio però aprire con la news di inter sassuolo non si giocherà per le positività covi trainer azzurri e vi voglio spoilerare anche qualche articolo interessante in uscita sul bet moto gp ancora incertezze su mark marquez però è favorito a 350 secondo i bookmaker miller a 5 è il suo primo rivale seguono il campione del mondo in carica john mir in sala suzuki affiancato dal suo compagno alex rins e insieme a loro anche fabio quartararo entrambi tutti e tre si giocano a 6 di quota morbidelli il migliore degli italiani a 7 50 più indietro bagnai a 16 e rossi a 15 nel weekend c'è anche il ciclismo con vanert che è favorito per il bis alla milano sanremo l'italia spera in ballerini che però è quotato molto indietro a 16 un back to back una vittoria un anno dopo quell'altro alla milano sanremo una delle grandi classiche del ciclismo non capita da una ventina d'anni ci proverà vanert oggi abbiamo calcio europa lì come vedete in sovrimpressione c'è shaktar roma e soprattutto milan manchester united giallorossi tranquilli dopo il 3 a 0 dell'andata anche se nelle quote 1 x 2 abbiamo un bel equilibrio visto che comunque lo shaktar ha ospitato la roma per tre volte in champions e ha vinto in tutte le occasioni tra l'altro ha vinto anche in ciascuna delle ultime tre partite eliminatorie casalinghi in europa league dall'altra parte la roma ha perso tutte quattro ha perso quattro delle cinque trasferte contro squadra ucraine in competizione europea però per il passaggio del turno c'è da stare tranquilli i giallorossi hanno superato 20 delle ultime 22 eliminatorie in europa in cui hanno vinto l'andata tra l'altro il 3 a 0 mette abbastanza al sicuro la squadra di fonseca più difficile l'impegno del milan che però si gioca le sue chance a san siro dopo il pareggio dell'andata all'all trefford senza il grande ex ibraimovic che potrebbe partire dal primo minuto questa volta e tra l'altro una rete dello svedese quotata 2 e 75 inglesi avanti per il passaggio del turno in quota 1 e 72 contro il 2 10 dei rossoneri che però hanno vinto quattro delle ultime cinque partite casalinghe contro lo united in competizioni europee manchester che è stato eliminato in sei delle ultime otto manche in competizioni europee quando non è riuscito a vincere il match d'andata in casa quindi anche la cabala la statistica dicono bene ai rossoneri occhio alle reti il milan ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime nove partite casalinghe in competizioni europee qualificazioni comprese per lo united occhio a bruno fernandez che ha segnato sette gol nelle ultime sette trasferte di europa league un gol di media a partite in trasferte in europa league oggi abbiamo anche il basket con l'eurolega quattro partite milano gioca domani il big match al vertice col barcellona ma oggi c'è anche un interessante real madrid sesca e a proposito di sesca ieri la squadra di mosca favorita nell'hockey khl ha perso a sorpresa la prima partita in casa nella serie contro lo yaroslav oggi ci sono altre due partite dei playoff khl inizia iniziano le serie di omsk contro magnitogorsk e di ska san petersburg contro dinamo mosca c'è anche la champions league di volley maschile con due partite ad interessarci ad interessarci in particolare il derby azzurro trentino perugia questa sera le 19 infine tennis dubai c'è sinera i quarti contro karatsev ad capucco musetti non smette di stupire esce invece di scena fonini si continua anche col vt vt a san pietroburgo e a monterrei per le migliori giocate c'è sempre il canale telegram di dario si trovate il link qui sotto inoltre oggi dario si ha fatto uscire anche una bordata di consigli sulle partite d'europa league in free pick per tutti quindi fateci un giro più che mai vediamo i risultati di ieri era il nostro compleanno però non siamo andati benissimi in free pick abbiamo pagato qualcosina 1 2 sulla partita del sassuolo col torino avevamo la combo x2 più over stendiamo un velo pietoso ok invece anche ieri la doppia di champions league di d'artagnan dopo aver incassato anche quella del martedì in khl il kazan domina e vince ma come abbiamo detto il sesca ha perso in casa insider si rifà in parte con il 2 1 nel premium il tenerife vince in doppia cifra ma di 13 quindi non entra almeno 17 e mezzo ci sono però la vittoria larga dello juventud in trasferta e anche l'over nel volley con modena che ha perso però questa volta almeno un set se l'è portato a casa e ha combattuto maggiormente contro la lube per un over punti vi saltano all'occhio anche l'all green nelle tips di mercato 4 su 4 compresa anche una quota bella alta 3 10 sul pareggio in in romania oggi ovviamente inizia il torneo nca con i primi quattro scontri first round e dopo vi do la mia pick preferita quindi ne parliamo un po più nel dettaglio nelle free pick nel prossimo blocco in nba discreta serata da 9 5 con i miei consigli nel vip di betting mania che è anche qualche bel colpo come la combo denver più over denver vincente più over a 2 56 nelle pick statistiche ne ho date 3 ne ho prese 2 ne ho sbagliato proprio quella che avevo dato in free pick per tutti i nets avanti nel primo tempo partita che è andata al contrario non è girata una giusta in questa sfida prima irving out a poche ore dall'inizio della partita poi i paces hanno giocato il miglior primo quarto della loro stagione con 40 punti 40 punti nei primi 12 minuti indiana non li aveva mai insegnati e alla fine i nets la vanno pure a vincere proprio per farmi ancora arrabbiare di più ribaltando nel secondo tempo almeno però con un grande harden che era una delle probet che abbiamo dato ieri abbiamo preso anche le vert al pelo abbiamo preso grant al pelo e adesso va da memoria abbiamo sbagliato purtroppo bill porzingis comunque come detto 9-5 nel complessivo la serata però è stata particolarmente ottima in nhl ok quei pagliacci dei flyers mostrano il loro vero volto anche ieri solo 26 tiri in porta manca un gol contro i rangers ma la cosa incredibile è che hanno concesso 9 gol in 29 tiri sia elliot che art in porta chiudono con numeri imbarazzanti i rangers non vincevano una partita con queste proporzioni ovvero un 9 a 0 da diversi anni dal 12 a 1 contro i california golden seals nel 1971 e ho detto tutto appuntatevi quindi i flyers come grande squadra come big fate grande squadra in calo nelle prossime settimane gli giocheremo spesso e volentieri contro ogni volta che la quota ci darà anche solo un minimo valore perché l'ho detto Philadelphia secondo me sta raccogliendo molto più di quanto dovrebbe partita ad alto punteggio a Vegas ma però il primo periodo è da under quindi altra bella quota sopra la pari nella peak statistica c'è anche l'over a Winnipeg che entra senza problemi l'unica macchia è la combo a Calgary dove l'ho letta proprio male i flames prendono una bella ripassata in una partita in cui abbiamo visto anche 10 gol totali in verità però a rovinare tutto è stato l'ultimo periodo visto che fino a lì stavamo andando bene poi è arrivato un 4-2 per gli Oilers che ha regalato la vittoria a Edmond e soprattutto ha fatto entrare anche l'over oggi abbiamo altri 10 partite di NHL e 6 partite in NBA ieri avevo letto male è un errore mio ho letto il calendario del giorno dopo vi avevo riportato le partite che invece si giocano questa notte compreso il rematch tra Portland e New Orleans e anche i Lakers che ospitano i Charlo Tornets tra le partite più interessanti veniamo alle free peak che oggi sono 3 iniziamo dal calcio con D'Artagnano ovviamente Eurolea e Europa League Molde contro Granada gol gol a 1.80 questo è anche uno dei consigli di cui vi parlavo prima che ha fatto uscire nel suo canale free il nostro Darius quindi è appoggiata da due tipster questa selezione 2-0 per il Granada all'andata su campo neutro anche se oggi andiamo col gol gol visto che comunque il Molde ha avuto le sue occasioni anche all'andata anche se poi non è riuscito a segnare si tratta di una squadra molto offensiva che dovrà spingere per ribaltare il risultato dell'andata ma potrebbe scoprire anche il fianco al Granada che con un gol chiuderebbe o quasi i conti come seconda giocata sull'Europa League Milan-Manchester United rigore sì a 2.75 qui stake mezzo investiamo meno ovviamente proviamo un rigore nel match di ritorno sappiamo tutti dei numeri da record sui rigori assegnati al Milan in campionato quest'anno tra l'altro non gliel'hanno neanche fischiato uno che c'era nell'ultima giornata albita il tedesco Brick che in quattro partite di Champions ha dato due rigori insomma un calcio dal dischetto in Milan-Manchester stasera ci potrebbe anche scappare ultima giocata la do io come anticipato Michigan State Spartans contro UCLA Bruins questa notte al via con il torneo NCAA gioco sulla vittoria degli Spartans a 1.74 entrambi hanno faticato in questa stagione che però è andata a migliorare per la squadra di coach Tomizzo e a peggiorare per UCLA anche nelle scommesse visto che i Bruins sono 3-11 ATS nelle ultime 14 partite tra l'altro arrivano da 4 sconfitte di fila compreso il 79-83 in overtime da favoriti ai quarti di finale del torneo di conference contro Oregon State non il massimo perché i Beavers sono nettamente inferiori rispetto agli Spartans a mio modo di vedere non solo al mio la vittoria degli Spartans è la giocata delle 4 che oggi preferisco nei first four round è una partita che potrebbe essere anche da under ma come detto la mia prima scelta oggi è la vittoria degli Spartans che secondo me potranno passare andare anche quest'anno al grande ballo anche se poi al primo turno incontrerebbero Brigham Young e lì sarebbe un altro discorso secondo me in quel caso passerebbe Brigham Young ma lo vedremo più avanti intanto iniziamo a cercare di prendere la vittoria di Michigan State questa sera contro UCLA noi siamo arrivati alla fine e ci ritroviamo domani se tutto va bene speriamo per l'ultima puntata della settimana come sempre c'è lo studio di D'Artagnan sulla Serie A e sui principali campionati di calcio andremo a coprire il venerdì ma anche tutto il weekend con le nostre free pick parleremo ancora di college basket parleremo di sport americani di Eurolega con la super sfida tra Barcellona e Milano insomma tanta tanta roba tanta tanta carne al fuoco anche per domani non mancate io intanto vi ringrazio dell'attenzione vi auguro una buona giornata fate buone scommesse ma puntate sempre con la testa ciao grazie a tutti